Grazie a tutti. Tutti per il calcio. Il calcio è la cosa che funziona sempre. Bernardo Terzino di vita, Cristian, palla al piede, spettacolare funambolo, eppure il grande Mimmo che adesso non fa più i capricci. Beh, i capricci quando vengono ti devi mantenere. Per tutti, proprio tutti, 300 in campo, prima il tempo della solitudine, dei brutti pensieri. Oggi di nuovo luce nella forza del gruppo, della squadra. Stadio Mariotti a Montecatini, undicesima edizione di Matti per il calcio, allegida della Wisp, progetto del calcio sociale segnatamente per giocatori con disagio mentale. Un gruppo di amici, una tre giorni senza fine, scherzando, ridendo, soprattutto giocare lo sport più bello, il calcio. Viva la Wisp, numero uno! Campi a distesa, partite a sette, una via l'altra, vincitori e vinti, sì, accomunati però, dalla stessa gioia, dalla stessa passione. I campioni dell'Italia sono tutti! Matti per il calcio, certo, i campioni dell'Italia sono tutti. Il più matto per il calcio, il capitano. Sì, sono io, è più matto. E io ogni tanto li sgrido tutti, ma loro non se la prendono mai, sono bravi tutti. Grazie, capitano! Grazie!